Combattiamo negli 84 kg di peso, accogliato all'anno blu, questa atleta ha 23 anni, esordisce nelle MMA, viene da Napoli per il Lucius Team, entra Salvatore Torta! La Master Clan Academy, entra Flavio The Master Miodini! Grazie! 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 Some good dreams, they'll come again. Come in, come in, come in, come in, come in. Come in, come in, come in! Come in, come in! Non l'ha data. Vai con la girocchiata. Cirocchia. Respira. Cirocchia libere! Giro Calibere, vai! Respira, respira, respira. Sede, non va a salire, non va a salire. Vai, vai, alza lì! Ma va a salire! Vai, Giro! Vai, Giro! Giro, Giro! Vai, Giro! Vai, Giro! Giro! Mettiti in posizione, posi i pugni e i gol! I pugni e i gol! Vai, non vai, i pugni e i gol! Pugni e i gol! Direttore alle gambe con la pelle! Vai, vai, forza! E due, chiudo! I gommi che sanno! I gommi! I gommi di salvatore! I gommi di salvatore! I gommi! I gommi! Vai! 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 Vai salvatore! Respira! Bravo, alzati, lascia! Valazza, valazza! 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 Vai salvatore! Le gambe! Le gambe, le gambe! resti giroscchia 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 Prima! 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 Girocchio, facciamo avanti! Girocchio, facciamo avanti! Girocchio, non lo dai ne chiude, va! Respira, non lo dai ne chiude, va! Girocchio, facciamo avanti! Girocchio, facciamo avanti! Respira, vai! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!